Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come L'apertura della puntata della vita in diretta di giovedì 22 settembre 2022 è stata a dir poco amara con il conduttore che ha parlato di uno spaventoso fatto di cronaca che ha colpito a quanto pare dei visitatori. Le sue parole che hanno atterrito i suoi telespettatori, decisamente molto ma molto numerosi. L'annuncio shock che ha spaventato tutti quanti Qual è stato l'amaro fatto di cronaca con il quale il conduttore Alberto Matano ha aperto la puntata dell'appuntamento pomeridiano di Rai 1 La vita in diretta di giovedì 22 settembre 2022? Una tragedia sfiorata? La vita in diretta, così ha aperto la puntata Matano.Si è aperta con l'incidente avvenuto nelle scorse ore a Villa Borghese, nella Capitale La puntata della vita in diretta andata in onda giovedì 22 settembre 2022, dove il padrone di casa, entrando in studio, ha commentato quanto accaduto parlando di tragedia sfiorata e sottolineando che si è rischiato il peggio per una scolaresca in gita sul posto Ma che cosa è successo? Il racconto dei fatti. In pratica al Globe Theater è crollata una scala causando dei feriti Attimi di vero panico e di terrore per i presenti che non sapevano sostanzialmente che pesci pigliare 11 dei feriti sono ricoverati in ospedale, le immagini che state vedendo sono state girate proprio poco fa sono state le parole della fascinante giornalista nei primi secondi della nuova puntata della sua seguitissima trasmissione È crollata una scala. La scala è letteralmente crollata e i visitatori sono volati giù per diversi metri ha spiegato Alberto Matano sempre commentando le immagini che nel frattempo la regia stava trasmettendo, sottolineando subito dopo, per fortuna nessuno dei feriti è grave Ha poi tosto aggiunto, il sindaco di Roma si è subito recato sul posto e più tardi vi aggiorneremo E nel concludere lo spazio dedicato all'anteprima della puntata dichiarato con la sua immensa professionalità, c'è poi un'altra vicenda che sta suscitando molte inquietudine, ossia una presunta segregazione per la quale sentiremo la versione dei due accusati Spazio la cronaca ma non solo. Dopo il primo blocco della trasmissione, interamente dedicato alla cronaca e all'attualità, la vita in diretta ha dato poi ampio spazio a temi ben più leggeri, con la presenza di quattro ospiti, decisamente molto ma molto graditi O meglio, sarebbe meglio dire gradite, visto che sono state tutte donne. Stiamo parlando di Giovanna Rey, Rita Rusic, Barbara Alberti e Simona Izzo E proprio quest'ultima, nei secondi finali, ha fatto una battuta al conduttore dicendogli, abbiamo già finito? No Sorridendo alle telecamere, il bello e bravo Alberto ha salutato i telespettatori dando appuntamento al giorno successivo, non prima di invitare tutti ad andare al cinema a vedere quel posto nel tempo, pellicola della quale è grande protagonista l'attrice Giovanna Rey Punto grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Ciao Ciao Ciao